Con il professor Ardovini parliamo dei tumori genitali femminili. Qual è la loro incidenza? I tumori genitali femminili, essenzialmente utero ed ovaio, oggi in Italia hanno colpito circa 250.000 signore e abbiamo circa 10.000 casi l'anno. Rappresentano circa il 5% dei tumori femminili in assoluto. Quali sono i fattori di rischio e quale forma di prevenzione possiamo adottare? Essenzialmente sono fumo ed alimentazione. Per quanto riguarda la prevenzione, la cosa più importante oggi abbiamo il PAP test, che è la base di tutti i test di prevenzione. Ma quali sono i sintomi e che controlli la donna deve eseguire? Essenzialmente le perdite matiche vaginali e dolori addominali. Per quanto riguarda la prevenzione, ecografia ginecologica e visite dal proprio medico. La Lilt è impegnata a diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita. E per quanto riguarda i tumori femminili, il tumore più frequente è quello al seno. Di cui quindi la necessità di dedicare un mese intero, il mese di ottobre, alla campagna nastro rosa, per eseguire visite serologiche gratuite a tutte le donne attraverso i nostri oltre 400 ambulatori che sono presenti in tutta Italia. Da quest'anno partirà anche una nuova campagna, la campagna di sensibilizzazione contro i tumori maschili.